Ciao sono Luca di Mr. Gadget e finalmente è venuto il momento di conoscere un prodotto molto bello vi faccio vedere prima di tutto la scatola di Google Pixel 2 che arriva sul mercato già in prevendita nei negozi di Win 3 e ovviamente sul Google Store al prezzo di 989 euro vedete anche la versione della cover in jersey in tessuto ma insomma quello che bisogna vedere è il frontale di questo telefono perché il design è veramente bello e questo rappresenta secondo me una delle proposte davvero più accattivanti del mercato e allora è venuto il momento di conoscere Google Pixel 2 XL ecco dunque la confezione del Google Pixel 2 XL quella che potete preordinare proprio in questi giorni dei negozi Win 3 quella che dal 15 di novembre troverete anche nei negozi italiani tolgo dunque il telefono dalla sua confezione vi faccio vedere prima la parte posteriore perché tra l'altro questo vi dà anche un po' l'idea di che cosa sia cambiato rispetto al modello precedente saprete che ci sono due colori una variante con il bianco e il nero e l'altra con il grigio scuro il canna di fucile essenzialmente e il nero insomma questa è una questione di gusto quindi insomma lascio a voi la decisione su quale delle due possa essere più accattivante quello che vi mostro però è come la parte in vetro sia stata rimpicciolita rispetto a quello che era stato fatto l'anno scorso e poi soprattutto vedete come le antenne spariscono la banda delle antenne questa essenzialmente sparisce rispetto al Pixel 2 XL l'altra novità importante ovviamente si vede davanti ed è quella della proporzione 16 noni per il Google Pixel originale mentre sappiamo che c'è una proporzione del display invece a 18 noni per il nuovo modello tra l'altro con una definizione molto elevata addirittura 1440x2880 pixel quindi ad esempio una definizione molto più elevata rispetto a quella di Mate 10 la diagonale di questo display è di 6 pollici poi torneremo anche a vedere altri dettagli riguardo al telefono intanto vi mostro lo slot per la nano sim nella parte non c'è ovviamente insomma ma non ci meraviglia che Google non lo fornisca un'espansione di memoria il pulsante d'accensione curiosamente è rosso nel modello bianco invece rimane dello stesso colore invece nel modello grigio quindi c'è nello stesso colore della scocca nel modello grigio scuro questo è il controllo del volume o volume rocker nella parte inferiore c'è il connettore USB Type C e invece sul retro il sensore delle impronte digitali velocissimo tra l'altro e anche la fotocamera da 12 megapixel che rappresenta la soluzione sul retro apertura 1.8 stabilizzazione ottica stabilizzazione anche elettronica dual tone per quanto riguarda il flash e poi il puntatore laser la parte frontale invece ha una fotocamera da 8 megapixel con apertura 2.4 con i pixel tra l'altro da 1.4 micron come esattamente tra l'altro la fotocamera posteriore c'è da dire che poi torneremo sulla fotocamera la fotocamera è uno degli elementi che fanno la differenza cioè la fotocamera gode della presenza dell'assistente in italiano allora assistente in italiano questo è un punto importante sarà disponibile in Italia dal 15 di novembre con l'arrivo di questo telefono si otterrà premendo in questo punto dove adesso invece arriva regolarmente il Google Now on tap come è normale che sia ci sarà la stessa funzione c'è l'accensione del Google Assistant o assistente di Google quando si schiacceranno i lati del telefono ma tutto questo quando sarà attivo l'assistente di Google il 15 di novembre nei prossimi giorni probabilmente avremo la possibilità di avere un'anteprima sui telefoni che sono stati distribuiti per le recensioni ma comunque vedremo più avanti l'assistente di Google allora funzionalità qualcuno di voi nei giorni scorsi nelle ore scorse mi ha scritto chiedendomi come fosse la visibilità del display intanto vi faccio vedere una cosa carina guardate le onde di questo sfondo le onde del mare che si muovono ma luminosità del display e anche angolo di visione io non so voi con quale angolo di visione siete abituati a guardare il vostro telefono però io direi che questo è un angolo di visione più che grande anzi direi che è veramente notevole anche per quanto riguarda il discorso dei bianchi molti di voi mi hanno scritto chiedendomi come siano i bianchi allora io vado immediatamente a prendere Huawei Mate 10 lo porto sempre al massimo della luminosità giusto per avere una comparazione corretta mettiamo i bianchi uno davanti all'altro ecco diciamo che il bianco di Google Pixel non so se si vede attraverso la fotocamera però è un po' più freddo è una tonalità un po' più fredda ma questo tutto sommato devo dire che è una scelta dei produttori non inficia secondo me la qualità tra l'altro c'è una luminosità adattiva che è inserita adesso la possibilità di utilizzare i colori vivaci vedete che avete anche la possibilità di scegliere la dimensione dei caratteri sullo schermo avete la possibilità di mettere il display ambient e di decidere quando attivarlo ovvero l'on screen display voglio farvi vedere anche un paragone proprio tra questi due telefoni mettendo proprio uno accanto all'altro il Mate 10 Pro e il Pixel vedete che tutto sommato praticamente si equivalgono anche come dimensioni forse è leggermente più grande il Google Pixel che tra i prodotti con 6 pollici di diagonale è più grande vedete è un po' più alto mentre la dimensione laterale è leggermente più largo insomma quindi vedete che tutto sommato l'ottimizzazione di Mate 10 che sembrava non essere il top se confrontato con il G6 scusatemi se confrontato con il V30 a proposito di V30 lascio un attimo i telefoni abbandonati a se stessi proprio per recuperarne uno e mostrarvi un paragone anche con il V30 sto arrivando pazientate un secondo e sto per essere dei vostri allora vedete qui abbiamo un'altra razio 18 noni e qui abbiamo un ulteriore esempio ma qui la diagonale di Note 8 è più ampia vediamo un attimo la proporzione tra il V30 e il Pixel 2 XL vediamo come il V30 abbia un'ottimizzazione veramente spasmodica degli spazi e rappresenti davvero un vantaggio notevole in termini di dimensioni dal punto di vista estetico probabilmente il V30 è il più bello tra i tre prodotti che arrivano con la stessa diagonale soprattutto con caratteristiche molto simili mettendo questi tre prodotti uno di fianco all'altro vi segnalo che essenzialmente dal mio punto di vista Mate vince per la potenza del processore il V30 vince per la bellezza del telefono e Pixel vince invece per la fotocamera ecco su questo direi che le tre indicazioni sono queste se guardiamo alla mera luminosità adesso cerchiamo di tenere i telefoni sempre uno accanto all'altro in modo tale da avere sempre la luminosità al massimo ecco vedete se vedete la mera luminosità pur vedendo sfondi diversi probabilmente pur avendo una definizione inferiore quello che ha il punto di luminosità superiore è il Mate 10 Pro ecco eliminiamo Mate 10 Pro e LG V30 due prodotti di una bellezza imbarazzante così come il Pixel 2 per vedere che Pixel 2 ha l'audio stereo frontale che andiamo ad affrontare immediatamente per ascoltare anche la qualità della riproduzione dell'audio grazie proprio ai due speaker frontali che vi permettono essenzialmente di impugnare il telefono in questo modo fatemi eliminare la rete wifi se no stiamo qua un paio di settimane ad aspettare che il nostro mondo acceleri dicevo con questa cosa dell'ascolto degli speaker frontali avete secondo me una qualità dell'audio sempre buona e soprattutto un livello molto alto aspettate che 1985 e a proposito di film dell'orrore è arrivato il momento del nostro cinema avete visto audio molto alto essenzialmente un audio che ha dei discreti bassi non esagerati però la cosa importante è avere questo impatto frontale che aiuta quindi a evitare insomma quelli che sono gli impedimenti dati dall'impugnatura non credo di dovervi ripetere ancora una volta che dentro questo telefono c'è il Qualcomm Snapdragon 835 ci sono 4 giga di RAM due versioni da 64 o da 128 giga di memoria hamburger del menu con la possibilità di scegliere tra slow motion panoramica photosphere ritratto o impostazioni quando scegliete la modalità ritratto potete semplicemente cliccare sul vostro soggetto che volete mettere a fuoco e avete la possibilità insomma essenzialmente di governare la vostra fotografia se esco dalla modalità ritratto a quel punto scusate vado nella modalità normale cioè nel senso nella modalità delle foto abituali voi avete la possibilità di scattare intanto le foto in movimento che sono l'equivalente delle live photos di apple e poi di gestire anche diverse situazioni di esposizione della luce in modo tale da poter governare quantomeno il tipo di esposizione bisogna dire che lo scatto anche è velocissimo adesso mettiamo una cosa che travolgerà un po' tutti i colori perché questa roba qua travolge tutti i colori messa a fuoco vedete che messa a fuoco abbastanza veloce e scatto velocissimo il risultato dell'immagine se guardate è abbastanza impressionante sì ok pito grazie guardate la qualità di questo scatto adesso attraverso la telecamera probabilmente non riuscirete a vederlo ma è veramente veramente impressionante vi ricordo tra l'altro che quando voi scattate una foto in modalità ritratto viene salvata sia la foto diciamo normale che quella con l'effetto applicato entrambi le foto vengono caricate su google foto che vi dà possibilità di archiviazione illimitata per le immagini che vengono caricate con il pixel attenzione google foto riconosce il pixel dagli altri telefoni quindi il caricamento illimitato avverrà solo per le immagini che sono scattate con il pixel a bordo di pixel 2xl c'è ovviamente android 8 andiamo a vedere immediatamente vedete android 8.0.0 questo in questo momento c'è sapete per gli sviluppatori c'è la preview insomma la beta di android 8.0.1 fotocamera veramente molto veloce sia sul fronte che sul retro batteria 3520 mAh e vi devo dire che insomma adesso ho usato così così il telefono l'orario lo vedete sono le 14 c'è l'86% di batteria ed è tra l'altro il primo ciclo di carica insomma torneremo su questo telefono perché merita soprattutto l'approfondimento l'assistente di google che però incontreremo solo nei prossimi giorni diciamo che per il momento partiamo da questo primo impatto vi ho detto che il display è P-OLED perché questa è una cosa importante il display è un P-OLED il che vuol dire che c'è una protezione data da un Gorilla Glass così come viene dichiarato da google quindi Gorilla Glass 5 ma P-OLED vuol dire che lo schermo comunque è in materiale plastico quindi plastic OLED c'è tra l'altro una superficie del display che è di 92,6 cm quadrati e con una razio che è del 76,4% tra display e superficie totale io devo dire che è veramente molto interessante insomma credo di avervi riempito di dati di ogni genere mi piace molto il Pixel 2 XL nei prossimi giorni poi torneremo a parlarne dopo averne fatto un uso un po' più intenso ciao da Mr. Gadget ciao